La vicenda raccontata dai Vangeli ospita una straordinaria rimozione della morte perché effettivamente la fede della comunità ecclesiale nasce intorno a un sepolcro vuoto, un sepolcro da cui di fatto è stato rimosso un cadavere in cui in qualche misura l'effetto fisico, sociale, culturale, psicologico più consueto della morte viene come cancellato, rimosso o direi con un verbo più evangelico trasfigurato da un'assenza che interroga e si è portato a pensare che tale rimozione sia veramente accaduta per ospitare qualcosa di più importante, di più fecondo, di più creativo del puro e importante confronto con la catastrofe della morte e il suo segno, la sua traccia, il suo indizio primario che è la salma stessa. La possibilità cioè di leggere quel vuoto come un riverbero di un amore più grande della morte stessa. Grazie a tutti.